Questa non è un'iniziativa che si sta cercando di portare avanti, come dicevo prima, le convenzioni che stiamo cercando di sottoscrivere con tutti gli enti e gli italiani ci hanno consentito già nello scorso anno di portare avanti diverse iniziative a livello originario, non solo ma anche per il nostro salento, quindi delle felici, legge, contisi e tanto. Possiamo dire che questa iniziativa si struttura da una parte riguardendo le esperienze del genio scorso, dall'altra si lega al risforzo dell'orientamento e quindi del rinsaldare il rapporto tra l'università, l'istituzione accademia e il territorio salentino, dall'altra però cercando di aderirsi appunto a tutti i fuori del nostro territorio. Con queste suggestioni, suggestioni culturali, che credo in questo momento di continuo in piste un po' da parte dei giorni, in questo momento di continuo, possano essere più utili che non presentare delle pappe pronte, o tre ponte, o tre vicende, come comunque, per lavorare tra l'ultimo modo e ci gettiamo in quest'altra avventura e speriamo che sia produttiva per tutti. Il corso avrà la parte della settimana, a parte del 6 di agosto e sul punto dell'anima 5 di agosto, che è organizzato in parte di condizioni contatti, parte di attività seminali e parte di seminari e di divulgazione. Le attività di condizioni contatti si spongeranno a tre ore, la mattina, tre ore, il pomeriggio, ci saranno poi due ore di attività seminali, come gli amici saranno misi in tre corsi o due ore di attività seminali, come gli amici, anche uno di audio-video e web-comunicazione. Le attività seminali potranno, non solo del percorso formativo, alla produzione di una piccola performance e anche attività seminali trattati all'interno della scuola. Un'altra delle caratteristiche di questa scuola estiva è che è favorita la partecipazione degli studenti disabili, è un settore sul quale l'Università del Salento ha puntato molto, abbiamo una notevole presenza a livello nazionale da questo punto di vista e quindi mi sembra giusto sottolineare che non solo sono benvenuti, ma cercheremo di offrire tutti i supporti possibili ai ragazzi disabili che vogliono seguire e seguire i corsi all'Università del Salento. Allora, io spero che voi iniziate facciate parte di questa conferenza, insegnando a noi cosa fare l'ecosistema, l'ecosistema culturale di questo sottolineo che stiamo insieme.